Musica Tragedia sfiorata per un escursionista friulano di 33 anni che dopo essere rimasto ferito durante un'escursione in montagna è sopravvissuto per ben sette notti nel bosco e al gelo in quota sulle prealpi Giulia insieme al suo fidato amico di viaggio, il cane Asch. Era caduto in un canalone rompendo su una caviglia e riportando altri traumi. L'uomo, secondo quanto raccontato da lui stesso ai soccorritori, è riuscito a trascinarsi vicino al torrente, a coprirsi con le foglie e il telo termico ed ha aggiunto di essere sopravvissuto anche grazie alla compagnia del suo amato Cagnolino. Il 33enne è stato individuato e recuperato nelle scorse ore dei soccorritori che lo hanno trovato e tratto in salvo grazie ai riflessi metallici del telo termico tra la vegetazione. Giunti in tempo prima che la situazione degenerasse, trovandolo ferito ed affamato ed increduli, si sono così espressi, noi emozionati e lui felice di vederci.